Brevissima comunicazione di servizio per segnalare che come molti utenti di youtube hanno potuto constatare in realtà non credo moltissimi ma quelli che magari hanno un interesse a gestire un canale comunque sappiate che chiunque di voi ha un account google di fatto ha anche un canale poi non lo usa ma ce l'ha c'è un problema in questi giorni che si è palesato nell'ultima settimana per cui sostanzialmente le liste, la playlist dei video piaciuti che nel mio caso è quella che nel canale contiene i famosi 1500 video attinenti a tutti al Padmettini Lyle Mace, Padmettini Group o affini e parenti non è visibile al pubblico perchè praticamente per impostazioni di youtube che prima erano modificabili e che in questo momento invece risultano non modificabili automaticamente vengono classificati come privati quindi li posso vedere sostanzialmente solo io la cosa evidentemente è stata segnalata da tutti gli utenti youtuber e non che hanno constatato questo fatto e quindi si spera che venga trovata una soluzione tecnica che impedisca di dover riprendere in questo caso 1500 video e doverli trasporre in un'altra playlist appositamente creata per questo motivo in questi giorni fino a che non si avrà sostanzialmente una soluzione tecnica che renda visibile la playlist che c'è è lì ma è visibile solo da me e chiunque acceda al canale non potrà non potrà vederla e questo è quanto vi darò notizie non appena la cosa si sbloccherà peccato perchè avevo messo dentro delle cose interessanti negli ultimi giorni tutto qui alla prossima alla prossima Grazie